Allora, nuovo ospite, nuova giornata qui all'Hot Corner di Roma, in maniera molto seria questa volta Stefano Lodovicchi, perché Stefano Lodovicchi è Reduce da Cannes, dove ha portato Christian, la nuova serie di cui è showrunner e regista, e andrà a gennaio su Sky, e siete tornati con un premio anche, perché Giorgio Giampa, il compositore della colonna sonora originale, ha vinto il premio per lo score a Cannes Seri, innanzitutto che effetto ha fatto stare a Cannes e portare un progetto del genere, anche se tu a Cannes Seri già c'eri stato. Sì, c'ero già stato nel 2018 alla prima edizione con Cacciatore, e avevamo vinto il premio miglior interprete. Sì, prima edizione di Cannes Seri, è un festival piuttosto giovane, però è veramente bello, perché comunque quando… È il corrispettivo televisivo, diciamo, del Cannes del Cile. Sì, certo. Infatti loro sono più alternativi, un po' più giovani, hanno il pink carpet, non il red carpet, un po' questo dress code un po' casual chic, come dicono loro, però sono molto fighi e c'è stata la possibilità di incontrare un sacco di persone che questo lavoro lo fanno nel mondo, da Nicolai Costa e Valdau, Jamie Lannister e tanti altri… Diretta Instagram è un po' come giocare in Champions League. Sì, è come giocare in Champions League. No conference. No conference. No, conference non ci piace. Però comunque sei al tavolo dei grandi, diciamo. Che effetto ti ha fatto vedere le prime due puntate in sala grande con tutti? Allora, l'effetto è bello, perché la sala è meravigliosa, quella è la sala grande, ovviamente, di Cannes, quindi ci sono passati più grandi di sempre del cinema, quindi l'emozione è stata tanta. Devo dire, pensavo si sentisse un po' meglio, però non facciamolo sapere a loro, insomma. Una bacchettata al reparto. Sì, quando ti arrivano, cioè le musiche di Giorgio, comunque quando arrivano belle gonfie, sono potenti, o anche insomma Douglas Dare, ci sono dei grandissimi cantanti, grandi pezzi che comunque sono stati scelti proprio per emozionare. Ma perché il volume era basso o perché… Non l'ho capito in realtà, forse il volume era basso, forse non avevano premuto il tasto Dolby. Bene, ah ok. E quindi era stereo, non lo so. Poi chiamiamo quelli di… Stefano, raccontaci un po' esattamente, Christian, sia la Genesi che… di cosa parlo, vabbè, parla, abbiamo visto il primo teaser che è stato lasciato a Skype, di Edoardo Pesce, che praticamente è un picchiatore che si ritrova le… Vengono le stimmate. Esatto, per fare la stessa sinossi quella da una rega. Certo, in un contesto molto di borgata, di periferia, in questo quartiere che abbiamo chiamato città-palazzo, perché è un quartiere immaginario. Abbiamo preso Corviale, Vigne Nuove e altri posti li abbiamo tutti mixati anche con i VFX per creare una sorta di quartiere gigantesco, tutto quanto soltanto nostro, tipico, dove poter creare dinamiche criminali e anche una sorta di… sì, dinamiche criminali che stanno… Corviale avete girato libero proprio? Corviale abbiamo girato dentro Corviale, certamente, sì, sì. Sono stati molto collaborativi, molto bello, ha un'identità molto forte. Poi anche il brutalismo va sempre più di moda anche nel cinema, non soltanto, perché ovviamente quella da questo punto di vista è sicuramente un'opera d'arte, è esteticamente cinematografico, senza alcun dubbio. La serie è creata da Roberto Sacucinardi, che ha diretto anche un episodio, da Valerio Uciglio e da Enrico Audenino. E con noi c'era Valerio Uciglio anche in veste di head writer a rappresentare la scrittura del progetto. È nato tanti anni fa, poi a un certo punto sono salito anch'io a bordo come showrunner, appunto, che ha questo ruolo di coordinatore, di produttore creativo. Sì, anche di dare uniformità poi… Sì, è un ruolo che c'è soltanto nella serialità, perché tendenzialmente anche quando ci sono più registi a dirigere serve sempre una figura di supervisor che riesca a mantenere sempre una costanza, una coerenza e un'uniformità di linguaggio. Certo. Tra l'altro, scusa, Edoardo Pesci l'altro giorno proprio in un'intervista a Khan diceva che lui non la considerava a tutti i gradi una serie perché per lui è proprio un film, un film lungo. Sì, un film lungo… Perché diceva non c'è poi il famoso cliffhanger alla fine… Beh, in realtà ce l'abbiamo, un po' ce l'abbiamo a fine episodio, sì, sì, ma ce l'abbiamo perché comunque è sempre quel classico tirante fine episodio che ti fa venire voglia di andare avanti. Però ormai le serie sono sempre più scritte in un modo orizzontale, quindi sono storie che vengono svolte nell'arco di una stagione intera e poi sempre di più la nostra storia, una storia che sicuramente ha un passato e ha una serie profondamente misteriosa da questo punto di vista, con tante domande e domande alle quali daremo risposta piano piano. Certo, molto misteriosa. Trato, uno dei punti di forza è il cast che è stato scelto in maniera proprio… Certo, certo, il cast è… L'ultima faccia… No, il casting l'ha fatto Davide Zurolo e secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Edoardo Pesce, Silvia D'Amico, che è il ruolo principale femminile che abbiamo, che fa un personaggio che si chiama Rachele, che è una tossica, uno degli ultimi che popolano questa fauna di Città-Palazzo. C'è Giordano De Plano che è il boss del quartiere, abbiamo Lina Sastri, che è la mamma di Cristian, di Edoardo. Antonio Bannò che è il figlio di Lino del boss, è il delfino di Città-Palazzo, quello che teoricamente in un futuro prenderà il posto di suo padre, del boss. Poi abbiamo tantissimi altri ruoli che sono quei ruoli che comunque vanno a comporre la grande famiglia, perché è come se fosse una grande famiglia. C'è Milena Mancini, abbiamo Claudio Santa Maria, che lui l'avrei detto in fondo perché comunque ha un ruolo, è un po' l'antagonista di questa storia. È un personaggio, è un po' il villain, è un po' un personaggio che ti apre a una dimensione più misteriosa, più magica. Perché? Perché è un postulatore, è uno di queste figure che lavorano in Vaticano e si occupano di fare ricerca sui presunti miracoli, capire quindi se sono... No, ma appaiono delle figure... È come a scuola, è come all'alimentario. È tipo scuola, già. È come a scuola, vedi? Santa Maria è proprio il classico villain, esatto, l'antagonista di Cristian. Sì, che però ha un passato molto particolare perché anche lui è stato in qualche modo toccato dal Signore nella sua vita. e questa cosa crea un personaggio che va al di là del semplice uomo che collabora con il Vaticano. È un personaggio che ha una missione e che quindi è... Non diciamo altro, però che effetto... Io faccio i gesti. Che effetto ha fatto invece a Cannes vedere Giorgio Giampa che vince il premio per la miglior colonna sonora? Non era scontato, insomma? No, non era scontato però non lo so, le sensazioni, le vibes che avevo erano tutte molto positive nel senso che Giorgio è un compositore come ce ne sono pochi da noi. Ha un'attenzione da tanti anni che lavora comunque a livello internazionale con tante realtà. È uno di quelle persone, di quei cervelli che vanno in giro a captare, non lo so, a captare le vibrazioni da tutto il mondo. E quindi sai, quando ti interfacci con Sud America, con l'Europa dell'Est, con la Russia, con la Francia, la Svezia che alla fine non può che essere contaminato. Non ti porti di tutto. E poi è un amico, è come se fosse mio fratello, quindi lavoriamo sempre insieme da una vita. E purtroppo anche lui è tifoso della Juve, quindi è sfigato come me da questo punto di vista. Sua Champions League poi non commentiamo. Faccio l'ultima domanda, Stefano, tu da spettatore qual è la serie cult tua, quella del cuore? Allora, serie del cuore mi verrebbe da dire Lost perché mi ha condizionato e ricordo che ho pianto alla fine, anche se le ultime stagioni mi hanno colpito meno. C'erano dei buchi lì. Però è un'avventura così incredibile. A me piacciono le storie dove tu dai un'alternativa di vita che non potresti mai vivere magari allo spettatore. In questo caso vivere quell'avventura su quell'isola con tanti dubbi, tanti misteri, è un fascino incredibile. E recentemente ho visto Squid Game su Netflix e mi è piaciuta veramente tanto. Perfetto, allora noi aspettiamo Christian a gennaio. Stefano Lodovicchi all'Hot Corner, grazie mille. Grazie a te.